Non farlo. Non aprire quella scatolina un altro millimetro. Ascoltami. Prima di te io ero una stronza. Sul serio? Tutti al lavoro pensavano che io fossi una grandissima stronza. Quelle persone che ti ho presentato come se fossero miei amici non sono miei amici. Hanno paura di me. O almeno ce l'avevano prima che ti incontrassi. Prima di te io non dicevo mai grazie o per favore al ristorante. Non ridevo mai alle battute che non fossero le mie. Avevo sempre una parola crudele. Ero fredda, distaccata, apatica, falsa. Ma da quando sono con te ho cominciato a sentirmi tiepida dentro. Ho questi pensieri, queste necessità di fare beneficenza e di abbracciare le persone. Ho quasi dato 10 euro a un senza tetto. Io ho comprato alla mia cosiddetta amica un regalo a prezzo pieno ed era qualcosa che sapevo le sarebbe piaciuto. Non vedi? Non vedi che mi hai reso gentile? È la cosa che più mi spaventa che adesso tu aprirai quella scatola e mi chiederai di sposarti. E io molto gentilmente dirò sì e sarò gentile a vita. Darò il 5 per mille alla make a wish. E poi un bel giorno mi sveglierò con l'orribile sensazione di aver vissuto una bella vita, di aver contribuito. Per favore, per l'amor di Dio, metti via quella scatola. Cioè, il mondo è pieno di persone gentili, non ha bisogno anche di me. Io sono una stronza e voglio rimanere così. Ti prego, metti via quella scatola, mi metti in ginocchio. Vuoi tu non scusare me?